Grazie a tutti. Il sentimento di spontanea e sincerità brota oggi di nostro coraggio e è la gratitud, la parola con maiúscula, che deve quedar presente in questo ambito. Castilla e Leone, e quando parlo di Castilla e Leone parlo di nostra comunità, di nostra società tutta, non parlo di un'administrazione, non parlo di un conjunto di administrazioni pubblici, non parlo di un governo, sino del conjunto della comunità. Può essere, per questo, orgullosa, sempre con prevenzione, sempre con attitud proactiva, del suo sistema di servizi sociali. La renta garantizzata di cittadinanza, che non è il balsamo di Fielabras, che non è la soluzione a tutti i problemi, ma che è nel siglo XXI un dretto social subjetivo del che già si hanno beneficiato in Castilla e Leone più di 8.500 famiglii. Grazie. 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 Grazie.